Nelle situazioni di pericolo la frequenza cardiaca delle persone normali può superare i 175 battiti al minuto. Il vero soldato sa mantenere la calma con la frequenza cardiaca tra i 70 e i 100 battiti al minuto. Dopo che passo io, però, quel numero scende a zero. Figo! Minchia! Wow! Un federale. Dotazione. Un federale. Un federale. Un federale. Grazie. 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 Che gulo. Grazie. 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 Vom impensare. Io per altolare.